In Danza in Arte la decima edizione inizia il 16 di luglio e finirà il 23, otto giorni di campus dove i ragazzi potranno cimentarsi in tutte le discipline accademiche. Questa decima edizione la facciamo ad Arezzo in grande stile, abbiamo un cast di maestri importanti veramente a livello internazionale e stiamo ricevendo tantissime iscrizioni e siamo molto contenti. Dopo le lezioni le ragazze verranno ospitate verso la struttura del Blue Team per fare delle gemme, delle esibizioni, divertirsi anche delle serate di musica con DJ set e quindi ci sarà come è solito nel campus di Danza in Arte fare la danza accademica tutto il giorno e poi il momento dello svago, del divertimento e della socialità. In questa occasione in Danza in Arte ho il piacere di essere chiamata da Anna Pagano in questa estate per tornare a lavorare in particolare con la fascia dei ragazzi più giovani ai quali appunto viene proposta una serie di lezioni di teatro per affinare l'espressività durante la danza. Una grande novità però sarà? Sarà che finalmente ritorna il passo a due di danza classica e quindi ci saranno degli insegnanti che arriveranno dal Teatro di San Carlo di Napoli e finalmente dopo questo periodo appunto dove non era possibile praticare il passo a due quest'anno finalmente un gran bel ritorno e un'ottima occasione per i nostri allievi. Gràcies.